Mi muove la voglia di superare le nuove sfide, di cercare di alzare la sicela sempre di più, sia nel campo lavorativo che nel campo familiare, di cercare di essere sempre diverso, suscitare interesse, cercare di essere una persona migliore, cercare di strappare il sorriso al mio figlio che ha ancora un anno e va sempre stimolato, cercare di insegnargli una parola diversa, saltare un po' più in alto, ma così anche con i familiari, gli amici, cercare di stare sempre vicino e essere sempre presente nella loro vita nel migliore dei modi.